Il Cubra Afro Il Cubra Afro Sabato 28 agosto, grande riapertura con ingresso libero Due sale, Afro New Style e Afro Story Riparte un'altra grande stagione con in console in esclusiva Il Cuore dell'Afro DJ Daviano Marchetti E i DJ Lesi Teo, Cismo, John Sabato 28 agosto, riapre Il Cubra Afro Accalcinato, Brescia, ingresso libero Vietato mancare Info www.djmarchetti.com Sous-titrage ST' 501 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 Buonasera Siamo lieti di darvi il benvenuto Il Cubra è tornato E vuole la vostra energia E il suono Afro del suo DJ DJ Damiano Marchetti Siamo! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti